Un po' dura per il giocatore Protoss, tra l'altro per Protoss, sono entrambi Protoss per Matti, ma inizia il game mentre io mi perdevo in chiacchiere un pochino, quindi passiamo subito alla presentazione dei due giocatori per questa Personal Gamer Qualify 19 di concorso indetto e promosso in collaborazione con ESL Italia. Partiamo subito dal giocatore che spona in alto a sinistra con il colore rosso, ovviamente la razza Protoss visto che è un PvP, si tratta di Matti, non ha alcuna tag di alcun clan, quindi non credo che faccia parte di alcun team un giocatore di razza Protoss di Lega Platino, quindi se la dovrà vedere con un giocatore di Lega Diamante, quindi un po' più alto di lui, giusto un gradino di rank, ma comunque può fare la differenza in un PvP. Spona nell'angolo in basso a sinistra, a destra scusate, con il colore arancione, fa parte del team Ace of Space Liloc. Credo che questo giocatore l'abbiamo già seguito in passato, ma andrò subito a vedere qualche informazione dei due giocatori per parlarvi un po' meglio di loro e del loro storico partite, storico tornei per quanto riguarda sempre le competizioni ESL. Tanto per iniziare posso dire che entrambi i giocatori sono di origine italiana, quindi non sono come abbiamo visto prima, ci sono altri giocatori dell'Estonia o degli Stati Uniti. Attenzione perché mentre stavo parlando mi sono perso un proxy gate da parte di Matti che viene opportunamente scautato da Liloc e ora si mette veramente in salita per il giocatore Protoss in rosso, che infatti è costretto ad annullare entrambi i gate perché una volta scautato non può farci più molto. Stava mettendo anche Liloc il secondo gate in produzione per counterare questo doppio proxy gate, ma l'ha annullato e ha optato per il doppio assimilatore, quindi la build ricomincia a tentare non nuoce, che giustamente dice Liloc mentre Matti sta andando probabilmente per una forge expand, un giocatore Protoss vedo un po' con le idee abbastanza chiare, comunque mi sembra che stia cercando di ripiegare velocissimamente per una chiusura con dei cannoni, non so se è la scelta migliore, ma comunque la vedremo perché no, va subito di gate, c'è la prova comunque di Liloc che è arrivata già nella base di Matti e scauta subito il primo gate in produzione, decisamente indietro rispetto al suo avversario che ha già un gate e sta producendo il primo Zelota, ha messo subito il centro cibernetico, quindi probabilmente andrà una rassa, una base, forse anche un 4 gate o magari 3 gate robo o 3 gate star gate, vedremo per cosa opterà, perché comunque ha 5 probe agli assimilatori, si è dimenticato probabilmente una probe da questa parte, quindi voleva prendere molto gas per utilizzarlo per qualche cosa, vedremo per cosa opterà, intanto rimane comunque il pilone di Matti qui, il proxy pile non utilizzato per il doppio proxy gate e va subito one gate expand, molto molto rischioso da parte di Matti, ovviamente è un giocatore che per il momento mi sta piacendo perché fa delle giocate che finora i protos nei pvp non hanno mai fatto, quindi vedremo se riuscirà a resistere a un push a monobase da parte del suo avversario che credo abbia scatato anche il... ha scatato esattamente tutto, no, non ha scatato il Nexus ma credo che si possa aspettare una cosa del genere, intanto è andato lo zelota di Liloc a distruggere il proxy pylon, oramai è rimasto soltanto il pylon, il proxy gate li aveva già annullati Matti, ha distrutto il proxy pylon di Matti e ora va a controllare appunto se ci sono altri piloni birichini, come direbbe il mio caro Cocasterietto, arriva la forgia molto... scusate, arriva il centro cibernetico, il core molto molto in ritardo, ancora non è completato, mentre quello di Liloc ha già quasi terminato un po' più di metà la ricerca del portale dimensionale, quindi potrà fare un push molto prevedibilmente verso l'ottavo minuto, un push un po' più corposo rispetto a questo primo push, che arriva in questo momento con uno zelota e un persecutore, ovviamente vinceranno zelota e persecutore contro un solo zelota, non ha la possibilità di creare persecutori, finito in questo momento soltanto il centro cibernetico è in costruzione, la forgia come vi dicevo doveva farlo decisamente molto molto prima, cerca di distruggere la probe per portarsi a casa qualche altro contentino, il giocatore Liloc degli Ace of Space e ora è costretto a pullare tutte le probe Matti per cercare di contrastare questo attacco di persecutore, e zelota sta tra l'altro cercando di distruggere le probe ai gas, quindi non potrebbe produrre nemmeno i persecutori se fossero state fatte fuori tutte le probe, intanto le probe stanno facendo un ottimo lavoro coadiuvate dal nucleo della neve madre, è uscito in questo momento, ma sta arrivando anche un Oracle che io mi ero tranquillamente perso, il portale stellare è dietro la linea mineraria, e l'Oracle farà decisamente molti danni e non può fare assolutamente niente contro questo Oracle, sta cronobustando il più possibile il persecutore in questo momento, ma ha perso praticamente credo tutte le probe, 17 probe distrutte in questo momento, vediamo un po' le unità, 4 probe contro 27, direi che il GG può arrivare in questo qualsiasi istante, perché non credo possa fare molto Matti, mi dispiace per lui, in ogni caso ricordiamo che tutti i game sono best of 3, quindi ci sarà la possibilità di rifarsi nel secondo game, direi che possibilità che dovrebbe utilizzare il più presto possibile, visto che comunque c'è già un altro Oracle in produzione, quindi potrebbe tranquillamente con due Oracle tenere sotto scacco entrambe le linee minerarie, non mi è sembrata una scelta molto saggia quella della One Gate Nexus successivamente, perché comunque, come vi dicevo, non ha abbastanza né unità né strutture per produrre ora altre unità, appunto ha soltanto un persecutore, uno Zelota, il giocatore Protoss in rosso e soltanto ancora 3 probe contro 33 del suo avversario, sta finendo la ricerca del portale dimensionale in questo momento, ma non produce nessuna unità, perché appunto non ha la possibilità di produrre unità, visto che il suo income è bassissimo, credo che sia a 40, ormai è GG, ce ne siamo accorti tutti quanti, comunque GG anche da parte di Lailoc, credo si vada subito al game 2, appena verrà chiuso questo game, e vince Lailoc il primo...